Penso che, come ho già avuto modo di dire, dobbiamo evitare di trattare dei temi che sono divisivi, anche se le intercettazioni hanno questa caratteristica, di essere un provvedimento voluto da tutti e dal momento che tutti ritengono che sia necessaria una modifica di questa normativa a partire dal Capo dello Stato. Evidentemente credo che l'accordo sia difficile da ottenere in ordine al come modificarlo e quindi abbiamo tempo per calendarizzarla, per trattarla.